Ragazzi buongiorno, ci siamo svegliati tardissimo, oggi volevo fare il vlog perché è l'ultimo giorno e quindi vi faccio qualcosa di bello, vi voglio fare anche il tour della stanza, infatti dobbiamo uscire perché se no non ce la puliscono più, c'è Daniel sul letto, c'è Dario di là e c'è Armando nell'altra stanza, ora quando vengo vi faccio il tour di tutte le due stanze, perché abbiamo due stanze comunicanti noi e Armando, vi faccio vedere però la vista dalla stanza che è bellissima, guardate com'è bella, si vedono tutti i grattacieli e tutte le macchine, veramente veramente bella, abbiamo passato una vacanza stupenda, vero amore? Bellissima, dici la verità amore, Dubai, fa troppo caldo, la temperatura è molto calda, pensa ad agosto, fa veramente veramente caldo, non puoi fare niente, fa caldo, però non è vero, la sera poi c'è quello a venticello, ma sempre caldo, però c'è quel venticello che è carino, è lui che soffre caldo, comunque ragazze, vi volevo dire una cosa importante, che abbiamo ancora la promo di Dubai 20 su Carlita Shop, quindi venite su Carlita Shop a fare scorta di prodotti, solari, tutto, avete tutto scontato al 20%, anche i prodotti Carlita Beauty che mi sono portato ovviamente anche qua, col codice Dubai 20 avete il 20% di sconto su tutto, e la promo è in scadenza, perché la lascerò attiva ancora per pochissimo, qua c'è Daniel, saluta Daniel, Daniel saluta, saluta nel video, Daniel saluta, e no, non vuole salutare, va bene, comunque ragazze, che vi volevo dire, ho una bellissima vacanza, comunque, è bella Dubai, adesso vedete la stanza, ve la faccio vedere prima e dopo, così capite la differenza, allora questo è il prima, va bene, ci sono scarpe, ovunque buttate e gettate così, qua c'è Daniel, un casino tremendo, mamma mia, che vergogna, guardate tutti i panni, buttate così, là sopra, non vi dico proprio quello che c'è, mamma mia, va bene, adesso aspettiamo quella santa donna, la signora delle pulizie, di qua invece c'è il bagno, qua c'è il bagno, vedete, bello tutto di palmo, con tutti i prodotti, Carlita Beauty, vedete, Carlita Beauty e Carlita Shop, e il makeup, e poi, di qua, c'è la stanza di Armando, a noi sono comunicanti le stanze, però si possono chiudere con la porta, quindi, è bella, è una bella cosa, dopo vi faccio vedere tutte e due stanze, tramonto, a Dubai, guardate qua che meraviglia, è bellissimo ragazzi, è super emozionante stare qui, bello, ora ci facciamo un bel bagno di sera, l'acqua è caldissima, se guardate un po' l'hotel vi faccio vedere, adesso andiamo a vedere la stanza, che ci hanno rifatto, vedete? vedete ragazzi, adesso andiamo in camera, bellissimo questo hotel, veramente bello, qua c'è il mio amore, bello, veramente, adesso prendiamo l'ascensore, andiamo in camera a vedere, guardate quanto è bello, sembra che c'è il mare e la spiaggia, ma l'ha lasciato, c'è anche Daniel, adesso ci apre, praticamente, noi abbiamo preso due stanze, questa per noi e quella per Armando, che sono comunicanti, quindi adesso vi facciamo vedere, vai amore, apri, questo, aprite? ecco qua, buonasera, accendiamo le luci, accendi, accendi tutto, guardate che bella la nostra stanza d'hotel, bellissima, bella, bella, tutto ordinato, il nostro letto, guardate quanto è bello, e là c'è la vista, guardate qua, ci hanno sistemato tutte le scarpe, qua, lo specchio, il frigo bar, qua, va bene, con tutti i panni sopra, la vista di sera, ragazzi, è spettacolare, guardate che bella, con tutte le lucine, c'è una vetrata che è enorme, va da là, fino a laggiù, è vera mamma? saluta, saluta, dici ciao? eccola qua, guardate quanto è bella, bellissima, sta vista, vado a cedere un po' più da vicino, aspettate senza il riflesso, ecco qua, bellissimo, super emozionante, la prima cosa che mi ha colpito, adesso vado nella stanza di armi, e vi faccio vedere, vedete sono comunicanti, però si può anche chiudere la porta, vedi? ecco qua, ci sono queste due letti, tutto ordinato, anche di qua c'è una bella vetrata, anche di qua c'è una bella vista, bellissima, vedete? con tutti i grattacieli, e poi qua c'è il bagno, dove vabbè Armando stai nel bagno, quindi non è il caso di farvelo vedere, vi faccio vedere il nostro, che è più sistemato, amore scostati, guardate com'è bello, tutto ordinato, con la doccia, tutto in marmo, bellissimo, e qua, vedete? tutti i miei prodotti, ora io, ciao! look di oggi, sirena, sirena style, guardate che bello, per andare al mare, con questo bel cappellino, i capelli sono un po' tutti sfatti, perché oggi voglio andare a fare la piega, qua a Dubai, infatti voglio fare un video TikTok, come fanno la piega a Dubai, ho messo questo costume, e sopra questo copricostume, fa così, tipo effetto sirena, vi gusta, guardate che bello Dubai, mamma mia che cavara che fa, quando stanno? 40 gradi, amore, 50 gradi, vai, fai un po' di vlog, vai, ragazzi, no, ma devi riprendere qui, ragazzi, qua Dubai, fa cavara, non è una città per me, fa troppo caldo, però è bellissimo, per chi ama il caldo, va bene, per chi non ama il caldo, non va bene. Annel, ciao, siamo al mare, non fa caldo, di più, che stia mare, che stia palma, però i colori del mare, guardate come sono belli, bello, molto bello, qua c'è Armi, salutarmi, ciao, tenisci come mano a mano, qua c'è Dania, saluta, ciao, ragazzi, guardate quanto è bello il mare, bellissimo, questo fa tutte le cose proteiche, guarda l'acqua, che acqua? come si chiama? kate beach, se volete venire, bellissimo, è il mare più bello di Dubai, bellissimo, vedi qua, la foto, la foto, vedi qua, vedi qua, ma che vuoi fare la miniatura? no, no, in un po' di blu, ah, se andò, ciao, vogliamo vivere qua a Dubai, vogliamo vivere a Dubai, che se non ci vedrete, ciao, saluto, non lascia a mamma, ragazzi, torneremo a Napoli, no, guardate che sta mangiando Daniel, ce lo siamo mangiato anche noi, buonissimo, è vero, com'è a mamma? io ce l'ho mangiato a mamma, eccolo qua, vedete, sta proprio di fronte alla spiaggia, è buonissimo, tutto naturale, va a vedere a mamma, com'è, com'è questo gelato, ti piace? a fragola l'ha bolluto, e Dario, amo, tu come l'hai preso? bestillo, me l'abbiamo presa a cioccolata, buonissimo, abbiamo pubblicato i video su TikTok, io e Armando, su mio TikTok, buona a mamma, adesso stiamo andando a cena, fuori, le mie scarpe, sono tutta a strass, e invece Armando si è comprati le sue nuove Louis Vuitton, bellissime, e stiamo andando, nel taxi, vero amore? yes, a cena fuori, wow, a cena fuori? sì, a cena fuori, thank you, Daniel c'ha il giacchettino, perché qua dentro c'è una recondizionata pazzesca, raga, grazie, grazie, e questo è Dubai di sera, vedete, adesso stiamo aspettando il taxi, per andare a cena fuori, vieni qua, se n'è andato il taxi a mamma, eccolo, eccolo, sono tutti pieni, taxi, abbiamo preso i noodles, guardate come sono belli, c'è Daniel, il papà, che li sta scartando, vero? guarda Daniel, ti li sta scartando qua, poi c'è Armi, e poi qua c'è una bellissima visita, guardate che bello, guarda, 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 siamo proprio sul mare, sotto la ruota, bello, sono arrivati anche i miei udon, guardate come sono belli, c'è anche la salsina piccante, facciamo il bandino, che sta facendo la foto, sono molto, molto invitanti, buon appetito, grazie a tutti,